Balon è un film contro la paura, contro l'intolleranza, contro l'odio che si diffonde sempre di più in Europa nei confronti dei migranti, ma è anche un film per la conoscenza, per conoscere l'Africa. Noi siamo andati in Africa, in un villaggio della Sierra Leone, che è uno dei paesi più poveri dell'Africa, ma anche più poveri del mondo, abbiamo vissuto in questo villaggio e abbiamo raccontato quello che abbiamo visto. La storia del film è la storia di un bambino, si chiama Min, che ama giocare a calcio, ma ha un problema perché in questo villaggio esiste un solo pallone e quando il pallone si rompe lui non sa più come fare, non può più giocare e cerca di aggiustarlo. Nel frattempo arriva una banda di predoni che distrugge il villaggio, uccide i genitori, uccide i fratelli e lui è costretto insieme con la sorella a intraprendere questo viaggio che lo porterà poi attraverso il deserto e a imbarcarsi su un barcone per raggiungere l'Europa.